Grazie a tutti. Ciao Massi. Ciao, ciao a tutti. Ciao Massi. Abbiamo con noi Lorenzo Canali, Dario Galletti, Marco Albanese e Fedora Sorrentino. Lascio la parola a Mitch, se c'è, se lo vedo o se l'ho perso. Sì, sì, no, ci sono, ci sono. Dai, non ti vedevo più. Cass, cerca di vedere se il live su Facebook sta andando perché mi ha buttato fuori e non riesco a capire questo nel frattempo. Vorrei salutare Fedora, direttrice del Teatro Sociale di Como. Benvenuta. Ciao Mitch, ciao a tutti. Ciao. Volevo partire subito con una domanda molto forte perché abbiamo visto che la realtà culturale più celebre di Como, che è il Teatro Sociale di Como, senza dubbio, sta vivendo come tutti un periodo molto pesante. La cosa che ci lascia pensare è che dalle istituzioni non sono arrivate risposte, non sono arrivate rassicurazioni. Come state vivendo voi questo momento, sia dal punto di vista professionale, ma anche tanto dal punto di vista umano, perché il teatro è fatto soprattutto di persone. E come si fa ad andare avanti con una situazione del genere? Cosa state cercando di fare, ecco? Allora, te la racconto su due piani che sono quelli più importanti. Quello istituzionale che tu citi e poi quello invece umano. Su quello istituzionale devo dirti che ho una posizione un po' differente dai miei colleghi, perché siamo tutti quanti indignati del fatto che nessuno si occupa della cultura. Ma in realtà, che cosa c'è di nuovo? Che cosa è cambiato? La mia sensazione è che fosse così anche prima e che è evidente che in un momento così drammatico non possiamo aspettarci niente di diverso. Se fino a ieri qualcuno si fosse occupato di noi, oggi avremmo sicuramente il dovere di alzare la voce e dire scusate, perché nessuno ci considera più? Non ci ha mai considerato nessuno. O meglio, dire così poi è un po' troppo tranchant, però è evidente che noi sopravviviamo, perché abbiamo dei contributi pubblici, però negli ultimi anni, soprattutto i teatri di tradizione, se devo parlare dei teatri, due grandi categorie dei teatri italiani sono le fondazioni lirico-sinfoniche, per il pubblico che ci ascolta, il Teatro alla Scala, il Teatro San Carlo, il Teatro dell'Opera di Roma, che sono i grandi teatri d'Italia che hanno orchestri e core stabili al loro interno. E poi ci sono 27 teatri di tradizione, che però hanno una natura diversa, sono il punto in cui la città si ritrova e hanno sicuramente un aiuto importante dal Ministero tramite il FUS, però negli ultimi anni tanto abbiamo dovuto fare di testa nostra, di creatività, abbiamo fatto in modo che la gente venisse intorno a noi. Per cui questa assenza delle istituzioni non mi stupisce per niente. Si sono preoccupata, sì molto, sono preoccupata perché il teatro è un'azienda culturale e devo dirvi, in questi giorni mi capita spesso di parlare con le persone che mi chiedono ma in teatro quanta gente lavora? Ora io sono una persona estremamente fortunata perché mi alzo la mattina e faccio la cosa che mi piace di più al mondo. Questo a un certo punto è diventato un lavoro, però è evidente che io mi sento una privilegiata. Però vivo di questo e come me tante altre persone. Se invece poi dal piano istituzionale passo a quello umano, la cosa più bella di questi giorni è che io sto chiamando al telefono tutte le persone che hanno aderito alla campagna Io rinuncio al rimborso. E l'affetto e il senso di appartenenza che arriva da ciascuno di loro è commovente. Non vi nascondo che io due telefonate su tre piango come una matta e mentre parlo e dico grazie inizio a piangere perché la gente parla dicendo una cosa che per noi è fondamentale. Dice il nostro teatro che è quello che abbiamo voluto trasmettere in questi anni che il teatro non è di chi lo organizza ma è della gente. E questa cosa credetemi è passata tantissimo quindi sotto il profilo umano a parte le preoccupazioni io cerco di raccontare ai miei colleghi tutto quello che mi torna indietro dal pubblico che è il senso più profondo del perché noi siamo in piedi e del perché dobbiamo resistere. Sebbene questo sia un momento drammatico perché stare fermi un anno perché si parla di una riapertura a gennaio 21 significa mettere a rischio la sopravvivenza di tutti noi innanzitutto ma sarebbe il meno del teatro sicuramente del teatro, della gestione di un posto che resta chiuso per dieci mesi che già fa fatica a stare in piedi giorno dopo giorno. Sì quindi forse bisognerebbe guardare come prima con il discorso con Bruno Magatti parlavamo della città che sta perdendo di identità forse bisognerebbe guardare alla cultura ma al teatro e alla lirica come qualcosa che fa parte della nostra identità e ma bisogna preservarla quindi bisognerebbe guardare i cugini francesi forse che in questo sono un po' più bravi di noi e noi continuiamo a resistere. Devo dire che oltre Alpe c'è un'altra cultura anche solo è evidente faccio due esempi che non farete fatica a credermi Germania e Austria hanno per la musica e per l'opera una sacralità e tutti gli aiuti che arrivano dai governi di questi paesi sono assolutamente non paragonabili a quelli che arrivano a noi. Io non so se la soluzione è l'aiuto del governo o dobbiamo inventarci delle cose sicuramente avremo bisogno di avere una riconoscibilità diversa perché io lo dico ma spaghetti, pizza e opera queste sono le cose che ci distinguono nel mondo nessun altro paese ha tutti i musicisti, i compositori d'opera che abbiamo noi. La Francia c'ha Bizet, va bene e Saint-Saëns, poi c'è la Germania che c'ha Wagner poi dei grandi nomi, ve ne ricordate qualcuno? Se cominciavano i Verdi, i Puccini, i Donizzetti, i Rossini, i Bellini sono davanti per mezz'ora, sono tutti nostri è il nostro patrimonio. Grazie. Assolutamente, quindi un po' una nota triste questa quella che le istituzioni non stanno facendo il loro dovere per accompagnare e non l'hanno fatto neanche prima come ben detto Fedora per accompagnare i teatri a crescere ancora di più che invece è come invece ha fatto il teatro che accoglie fin da bambini per farli crescere nella loro carriera ad amanti del teatro. Io voglio interpellare a questo punto Lorenzo Canali che so che sicuramente ci potrà tirare sul morale perché lui è sempre positivo, vede sempre il buono in tutte le cose e quindi volevo proprio chiedergli se lui ha qualche novità positiva per noi. La radio d'altronde non ha bisogno di assembramenti per difondere la propria musica, per difondere le informazioni e i messaggi ma di sicuro anche voi vi sarete dovuti riorganizzare. Come avete fatto? A te la parola. Grazie, grazie, grazie Gastone. Allora innanzitutto Fedora, beh dai, per fortuna che la gente mette il nostro davanti a teatro, questo aggettivo è importante. Anche davanti a radio mettono la nostra radio però poi non è che ci lasciano i soldi del biglietto, non ci lasciano assolutamente nulla. Noi dobbiamo sempre stare così, a fare i conti con soltanto quello che riusciamo di nostro a portare a casa dalle sponsorizzazioni. Comunque si, Gast, hai ragione, la radio per quanto riguarda la sua attività in questa epidemia non ha avuto particolari scossoni, non si è dovuta riadattare per quello che gli ascoltatori percepiscono perché noi siamo andati avanti in perterriti fin dal primo giorno di lockdown e stiamo andando avanti adesso. Dietro le quinte qualcosa sì, invece abbiamo dovuto riorganizzare la attualmente sigillata, per esempio il nostro amico Marco Albanese che vedo lì, ciao Marco, un pezzo non ci vediamo più. Eh, purtroppo. Non può più entrare alla radio e non potrà entrare magari dalla settimana prossima, allenteremo un pochettino questa cosa. Però abbiamo anche noi deciso di lavorare in un gruppo ristrettissimo di modo che non ci fosse tutto il traffico di persone che c'è normalmente nella nostra piccola sede e abbiamo dovuto adottare per continuare con le trasmissioni quello che stanno facendo un po' tutti, tutta la tecnologia che ci aiuta come quella che in questo momento sta supportando questo grande festival. grande baci che vanno a questi ragazzi che hanno organizzato la cosa. Io veramente li adoro. E sì, non abbiamo, come ti dicevo, cambiato molto. La radio viene ancora più ascoltata in queste occasioni. Non capita soltanto alla nostra, anche se noi abbiamo la fortuna di avere un grande localismo, per cui da una parte siamo piccoli, ma dall'altra copriamo un territorio parlando di questo territorio. Per cui abbiamo veramente interpretato la funzione di pubblico servizio, cosa che facciamo anche normalmente, ma ancora di più in questi 40-50 ormai giorni siamo stati veramente presenti comunque sempre ovunque, dando voce ai medici, dando voce agli amministratori, a tutti quelli che in qualche maniera erano le persone preposte per rispondere alle tante, tante domande delle persone e portando anche tanti esempi positivi. Per fortuna in questa occasione abbiamo contato decine di esempi positivi a cui abbiamo dato voce, solidarietà, inventiva, veramente le cose più belle che una città esprime. Mi piacerebbe che rimanessimo sempre in quarantena per vedere una Como così bella dal punto di vista appunto dell'unione, della solidarietà. Poi magari da lunedì ricominciamo con le solite schermaglie e con i soliti egoismi, eccetera. La radio però in tutto questo mantiene saldo il timone, come dicevo, contraendo un pochettino anche la quantità di produzione di programmi, perché un po' li abbiamo dovuti per forza di cose eliminare, perché avevano necessità di persone in studio, ma la maggior parte delle cose le abbiamo fatte comunque alla grandissima, sì. Grazie, grazie Lorenzo. Procediamo presentando Dario Galetti di Mondovisione. Mondovisione è una realtà canturina, ma chiamarla canturina sarebbe riduttivo perché in realtà agisce in tutta la provincia e anche fuori, tra i vari progetti ricordiamo il Teatro Sant'Oro, Villa Tittoni, Villa Bernasconi, giusto? O vuoi aggiungere qualcos'altro, Dario? Sì, ciao a tutti. Ciao Dario. Ciao Lorenzo, ciao Fedora. Ciao. Sì, questi sono purtroppo i progetti principali, perché tutti, come puoi immaginare, sono tutti fermi, perché pubblico spettacolo, cura, formazione, service, audio e luci, eccetera, eccetera, purtroppo in questo momento non si può lavorare. Chiaro. Io infatti avevo una domanda appunto su questo. Voi avete pensato, dato che voi comunque durante l'estate avete sempre fatto un sacco di proposte, mi viene in mente Villa Tittoni, state cercando di proporre qualcosa, magari in una maniera diversa, avete qualche idea in mente per far fronte a questa emergenza? Sì, sì, stiamo facendo delle pensate. Vabbè, innanzitutto volevo effettivamente accodarmi al discorso di Fedora, dove giustamente è brutto, vabbè, è brutto, è così effettivamente dire a un certo punto cosa è cambiato, niente, non ti cagavano prima, non ti cagavano bene, uguale. Poi è vero, in realtà, pubbliche amministrazioni, sponsor, insomma, c'è una rete di soggetti che sostengono teatri e altre attività culturali, come pesa, immagino anche la radio. Rispetto all'estate, rispetto a Parco Tittoni soprattutto, ci stiamo immaginando sulle tre cose che sappiamo, ovvero che il primo giugno potranno riaprire probabilmente i bar, su una possibilità di ricostruire un progetto, che sia un progetto sicuramente aggregativo, che sia un progetto di respiro per la città di Desio e non solo, ma che sicuramente non graviterà intorno all'attività di pubblico spettacolo. E quindi un grosso problema è quello di non avere delle indicazioni, sia per il teatro che per le altre attività. Quindi sentivo l'altro giorno che la task force ipotizzasse 90 scenari possibili per ogni fase. Più o meno è la cosa che facciamo anche noi. Non abbiamo indicazioni, ci inventiamo delle cose su quelle due, tre informazioni che ci arrivano. Quindi io vabbè sono positivo perché insomma poi la creatività, la fantasia ci portano a trovare sempre delle soluzioni. Però insomma ad ora siamo un po' così. Assolutamente. Quindi bisogna avere la capacità di adattarsi e di sapere leggere i tempi. Con questo voglio introdurre anche Marco Albanese. Lo presento soltanto con il recordman di presenza in diretta live di Ciao Comoradio, con il suo programma Stanze di Cinema. Ieri Massi ci ha sfidato a batterti Marco, con i tuoi 69 mila persone in diretta in contemporanea. Quindi con questo festival cercheremo di sfidarti. Abbiamo preso tante ore apposta perché se no non ce la faremo mai. Bravi, avete fatto bene, ottimo. Abbiamo detto facciamo nove ore di diretta così magari riusciamo. Ma certo. Guarda, volevo dire che sono molto felice di essere in questa stanza perché c'è un pezzo di me davvero dappertutto. C'è un pezzo di me nel teatro sociale che ho frequentato come consigliere per cinque anni. C'è un pezzo di me nella radio che, come diceva appunto Enzo, ho dovuto lasciare perché in questo momento il cinema è fermo. Però, insomma, con il cuore sono lì con voi e condivido anch'io l'idea che il teatro e la radio siano parte di questa città. Un po' anche perché il teatro lo è davvero. Il nostro teatro di tradizione è particolare. È davvero un teatro della città, dei suoi cittadini. Di 60 persone che lo aiutano a esserci e a non disperdere quel patrimonio straordinario di conoscenza e di amore che restituisce da quel palcoscenico. Io voglio essere anche positivo. Non mi sono piaciute per niente queste idee, andrà tutto bene. Le trovo proprio urticanti per il mio modo di vedere le cose. Però certamente dobbiamo essere realisti ma positivi. Ecco, dobbiamo, soprattutto in questa stanza che, come diceva Fedora, è un po' quella dimenticata, no? Perché alla cultura nessuno sta pensando in questo momento. Però noi siamo qui. Noi che la facciamo e che ne siamo parte, siamo chiamati a esserci anche in questo momento. A esserci ancora di più, in modo ancora più fantasioso. A cercare di capire davvero cosa possiamo fare, che tipo di strumenti possiamo utilizzare per esserci comunque. Perché il patrimonio culturale è quello che ci rende uomini. E donne, ovviamente. Assolutamente d'accordo. Volevo infatti dirti che Como per una volta era stata pioniera abbandonando un po' le sale cinematografiche della città e quindi lasciandole un po' andare in difficoltà prima della chiusura di tante uscite di film che dovevano uscire durante questo periodo e che sono state rimandate. Forse questo proprio posticipare l'uscita del cinema e l'isolamento a casa ha fatto in modo che tutti scoprissero Netflix che era un po' il grande sfidante in questo momento della socialità. E io volevo sapere un po' che cosa ne pensi di questa era di Netflix. Guarda, Netflix, se vuoi, è una sorta di cavallo di Troia. Io lo vedo un po' così, purtroppo. No, la realtà è che il cinema nasce fin dall'inizio, fin dal suo primo giorno nasce con un auspicio di morte, no? Il 28 dicembre 1895 la sera della prima proiezione di Parigi al Caffè des Capucines dei primi filmati dei fratelli Lumière il padre dei Lumière confida a Méliès che sarà uno degli altri padri del cinema delle origini che il cinema è un'invenzione senza futuro. Gli stessi Lumière erano convinti che nessuno avrebbe passato delle ore chiuso in una sala buia a guardare dei filmati. Quella sera c'erano un po' di persone. Nessuno dei due fratelli avrebbe immaginato che di lì a qualche settimana sarebbe dovuta intervenire la polizia a fare il servizio d'ordine perché talmente grande era il successo di quella loro piccola invenzione che era necessario fare in modo che la gente non entrasse non si accalcasse all'interno di quel piccolo caffè. E poi da lì una storia appunto che ha attraversato l'ultimo secolo da tanti punti di vista. Il cinema non è morto con le due guerre mondiali non è morto quando è passato dal muto al sonoro non è morto quando è stata inventata la televisione non è morto con un video non morirà io penso io credo neanche con internet neanche con Netflix. Sono Netflix come i tanti player che oggi ci sono Amazon Prime, Apple TV+, Disney+, che ha debuttato proprio in questi giorni di chiusura RaiPlay ormai tutti hanno un servizio streaming dove poter far vedere il proprio catalogo e la propria produzione nuova in contemporanea o appena dopo l'uscita in sala. Però ecco, queste sono tutte forme di distribuzione diverse che ovviamente non possono cancellare la magia della condivisione con degli sconosciuti in una sala buia, su uno schermo gigantesco con quella magia che tutti quanti noi associamo a quel tipo di proiezioni e che spesso a comodo hai detto sì, i cinema in città stanno morendo è vero, è verissimo purtroppo ho letto una notizia molto preoccupante che anche le sale nuove anche la nuova multisala di Camerlata pare stia facendo dei lavori di ristrutturazione molto invasivi per trasformare le sue sale non ho capito bene che tipo di altra diavoleria per bambini non so, ecco limitando addirittura a tre schermi lo spazio per il cinema non so, io penso che sia un po' prematuro che sia un errore io confido che questa condizione sarà lunga ma sarà transitoria io voglio sperare che tutti quanti noi potremmo tornare serenamente in una sala cinematografica e anzi forse secondo me lo faremo ancora con maggior gusto con maggiore attenzione capendo quanto è importante quella sensazione, quell'emozione quel momento nella nostra vita l'abbiamo dato forse un po' per scontato ci siamo abituati a vedere tanto cinema in televisione sui nostri computer addirittura qualcuno anche sui cellulari ecco, no, dobbiamo capire che c'è uno spazio adeguato per ogni cosa e quello rimarrà io ne sono convinto sì, sicuramente di me c'è un discorso proprio di socialità magari anche la nostra città non è una città così attenta a queste tematiche di vicinanza di socialità di rete però mi viene in mente è vero ma quelle due sale che tutto sono cittadini che resistono fino a che diciamo sono rimaste aperte avevano comunque un pubblico molto affezionato che ha riconosciuto la qualità di quella programmazione che ha cercato di seguirlo di essere parte di quel movimento poi dopo certo ci sono problemi strutturali di finanziamenti di finanziamenti ecco lì potremmo potremmo fare molto di più sì a me viene in mente io ho avuto la fortuna di vivere un anno a Madrid per esempio a Madrid sul cinema e anche sul teatro c'è tanto c'è il microteatro c'è ci sono dietro casa avevo un cine d'oree che era un cinema che faceva film africani e asiatici a due euro ed era sempre pieno c'era la casa incendida dove proponevano attività culturali la tabacalera che era un centro occupato e se tu immagini un centro occupato in Italia è uno scenario è un certo tipo di vista a Madrid cosa ha fatto lo Stato? Ha investito in quello spazio e il Ministero dà soldi per fare attività culturali in uno spazio che era stato occupato abusivamente quindi è vero che magari Madrid è proprio eccedere da parte però bisognerebbe trovare una via di mezzo qui e appunto guardando le città dell'Est vorrei tornare a Fedora e chiederti prima parlavamo di Germania di Austria di Francia vuoi darci l'esempio di qualche realtà che funziona che magari ha avuto le nostre stesse difficoltà a livello di sistema paese o anche a livello locale che negli anni è riuscita comunque a proporre qualcosa di vincente che è durato nel tempo qualche esempio virtuoso o in generale in Europa in Italia e in Europa così me ne vengono in mente tanti ma in realtà credo che più che un esempio virtuoso ci siano sostanzialmente tante realtà culturali sia in Italia che in Europa che trovano il modo di stare in piedi e di fondersi al proprio tessuto culturale cittadino soprattutto le realtà più piccole i teatri più piccoli hanno questa capacità di essere parte del sistema e di fare in modo che il teatro arrivi in mezzo alla gente e non e non il contrario per cui citartene solo uno diventa riduttivo e molto dipende dalla tipologia di teatro e dal luogo in cui ti trovi però credo che tutti quanti noi sono cambiate le condizioni rispetto a vent'anni fa a trent'anni fa quindi la creatività deve essere il primo il nostro primo obiettivo quindi ognuno di noi mette in campo le proprie migliori risorse per far sì che la gente si riconosca nel teatro poi è evidente che il grande teatro se tu fai l'esempio del teatro alla scala ha un'altra un'altra riconoscibilità nel mondo quindi il teatro alla scala non è in Milano il teatro alla scala è tutto il mondo mentre noi per esempio siamo Como poi abbiamo un sacco di attività che esportiamo all'estero e che ci vengono riconosciute come attività importanti e che vengono prese ad esempio tutta la nostra attività di opera education che è quella per i bambini con tutti i progetti per i bambini piccolissimi per tutte le fasce d'età tutti i format che sono stati messi in campo vengono prese ad esempio da un sacco di realtà europee però per esempio se tu invece ti cambio la domanda e ti do un'altra risposta io credo che io sono affascinata moltissimo dalle programmazioni dei teatri del nord Europa perché sono assolutamente più sperimentali se tu guardi le programmazioni dei teatri della Svezia della Norvegia più che quelli vicini a noi quelli più lontani hanno una curiosità diversa e credo che arrivi un po' da una situazione culturale generale però sono estremamente interessanti le nostre programmazioni hanno si assomigliano tutte dell'Europa antica fammela chiamare così l'Europa antica e delle programmazioni molto simili il nord Europa sperimenta ma questo credo in tutti i campi e non solo nel forse nel nord Europa c'è anche un filo politico nel fare quello sicuramente anche perché tutti gli esperimenti poi progressisti del mondo guardano lì guardano tutti al nord Europa lo stesso adesso io sono un appassionato sono un po' di parte mi piace Bernie Sanders Bernie Sanders quello che ha proposto negli Stati Uniti l'ha preso dal nord Europa e da lì che arriva tutta l'innovazione politica e sociale e bisognerebbe guardare lì sono un fan del nord Europa anche io sono tantissimo a parte che fa buio molto presto e fa molto freddo però è un posto dove andrei a vivere io non lo sono e sono un fan della nostra bella Italia perché si mangia bene si vive bene ci sono persone anche molto più aperte e socievoli è vero che sperimentano tanto ma noi abbiamo anche Lorenzo Canali che sperimenta tanto con la sua radio ha allargato un po' i confini rispetto a quello che immaginiamo come radio va allargando le attività andando addirittura su due radio prendo un sito internet organizzando eventi fisici eventi digitali come questo qua di Said e quindi io volevo capire un po' il ruolo storico sociale della radio che avrà anche in futuro e qual è il vostro in particolare nella realtà di Como giusto allora stavo facendo un po' di calcoli no io sono il più giovane qua no sono il più vecchio di tutti come anagrafe io personalmente ma come media sono il più giovane perché pensavo che il cinema Lorenzo scusa io a essere la più vecchia non ci sto secondo questo principio e purtroppo invece Fedora sei proprio tu la più vecchia perché fin dai tempi dell'antica Grecia si parlava di teatro e così anche per Dario per cui hai dei secoli alle spalle pensavo di essere coetaneo del cinema prima citato appunto no di un anno più giovane io sono perché la radio è nata nel 1896 esattamente l'anno successivo a quello che tu hai citato dei fatti vabbè comunque io sono comunque uno che è un centenario e la radio da cent'anni a questa parte alla fin fine ha sempre fatto la stessa cosa ha un ruolo ben definito che è quello di collante di tante cose per esempio anche nella nostra radio per parlare soltanto di noi perché non facciamo la storia della radio in Italia nella nostra radio c'è un pezzettino a proposito dei pezzettini che diceva prima Marco un pezzettino di tutto c'è un pezzettino di luminanda c'è un pezzettino del teatro se vogliamo c'è una piccola rubrica ma mensilmente il teatro invade la nostra radio così come tante altre realtà comasche invadono molto piacevolmente peraltro ci facciamo invadere la nostra programmazione perché la radio è proprio quello è praticamente una voce quello che vogliamo che noi sia per noi deve essere la radio è una voce aperta veramente alla città e chi la sa interpretare chi ha voglia di interpretarla per cui andrà avanti così sempre però giustamente come dicevi tu Gastone stiamo sperimentando parecchio sì è vero abbiamo in qualche maniera aggiunto delle altre radio che fanno fatica ad avere una produzione propria e allora si sono un po' appoggiate a noi per riprendere i nostri programmi alcuni li facciamo in collaborazione una radio di Lecco Radio Vivi Eco 104 che ha una bella ispirazione perché è una radio che punta sulla sostenibilità ambientale e sulla sostenibilità in generale non soltanto ambientale e poi in Alto Lago c'è invece questa bella radio questa piccola ma interessante radio che è Radio Stella FM e qui è stato soltanto di duplicare quello che noi già facciamo per coprire un territorio ancora più vasto d'accordo questa è una cosa però stiamo sperimentando molto ecco e mi dispiace un pochettino e qua lo dico non vorrei che Fedora se la prendesse anche Dario che vedo che in questi mesi di lockdown nessuno dei due ha provato a se non riproponendo online cose vecchie a interpretare questo momento con qualcosa di nuovo di provare almeno e noi come radio invece ci siamo cimentati in due con questo tre però non mi voglio assumere la paternità di questo bellissimo evento perché qua più che altro è nato da Michele e da Gas abbiamo fatto due tre cose studiate appositamente per questo momento io non voglio fare nomi di altri competitor però sono rimasti assolutamente immobili non hanno provato a fare niente anche avendo mezzi più grossi dei nostri per esempio gli altri giornali locali non hanno fatto niente niente di niente io ho veramente aperto come sempre faccio a tutti l'idea di collaborare nella produzione di qualcosa di nuovo l'ho chiesto per la musica un evento che abbiamo fatto con l'House Concert mettendo insieme 60 artisti del territorio che hanno suonato tutti da casa ancora al 9 di marzo l'abbiamo fatto questa cosa a supporto della musica dal vivo e ho chiesto ai quotidiani ai locali se volevano collaborare hanno detto che non gli interessava l'abbiamo fatto con la letteratura con una bellissima indagine sull'interpretazione di come questo tempo sospeso potesse essere di aiuto anche a progettare il futuro l'abbiamo chiesto a Bari Partner e tutti non hanno voluto aderire questa cosa un po' mi è spiaciuta perché poi si parla sempre facciamo la rete facciamo la rete io sono veramente uno che come dicevo prima apre a pezzi di tutto nella mia radio però quando qualche volta chiedo non trovo mai questa cosa invece reciproca vabbè non voglio fare nessun tipo di polemica tanto noi l'abbiamo fatta e continueremo a provare vie nuove perché secondo me questa cosa ci sta insegnando che possiamo agire su più per essere ancora più cross mediali non fare la radio sul web ma fare delle cose diverse sul web che si intersecano su quelle che facciamo alla radio e continuare a sfruttare più canali per fare un unico prodotto certe volte parlando un po' alla radio perché la radio ha dei tempi ha delle sintesi per forza di cose il web può darci degli approfondimenti ci mancherebbe qualche partner che per esempio la nostra idea può anche portarla quando ci sarà possibilità magari su un palcoscenico insomma ragazzi io penso che noi abbiamo questa cosa che stiamo facendo oggi questo site festival ne è proprio la rappresentazione plastica stiamo facendo qualcosa per questo momento che stiamo vivendo non stiamo aspettando di vedere che cosa ci sarà in futuro poi vedremo cosa si potrà fare in futuro ma stiamo facendo anche qualcosa adesso e siamo tra i pochi veramente detto questo grazie Lorenzo non so se Fedora vorrà rispondere ma io intanto inizio a interrogare Dario perché anche lui è molto integrato con il territorio deve far sentire la propria voce nelle realtà in cui è e volevo sapere come si può evolvere questa integrazione che cosa stavate pensando per il futuro come si può evolvere questa scusa questa situazione in questo momento per farsi sentire vicino al territorio mantenendo ma guarda in realtà abbiamo attivato svariate iniziative utilizzando chiaramente i canali i vari media da una didattica che in alcuni casi è rimasta in accordo tra docente e insomma i corsisti è comunque proseguita soprattutto per quanto riguarda la danza classica i vari gruppi di teatro invece hanno deciso abbiamo deciso di non proporre delle lezioni online perché dal mio punto dal nostro punto di vista non aveva senso esercitare una cosa che invece è fatta di contatto vicinanza è una cosa fisica un corso di teatro e il teatro però hanno continuato a vedersi hanno prodotto del materiale sbariato materiale è stato messo online anche su altri progetti ti racconto una città eccetera eccetera quindi in realtà abbiamo affrontato quei mezzi che avevamo la situazione io tra l'altro seguo molto seguo molto il lavoro che fa Lorenzo cioè Lorenzo che fa Lorenzo sono inviati nei vari reportage rispetto a iniziative cittadine non iniziative accadimenti perché quando sono iniziative dal mio punto di è un ottimo lavoro dal mio punto di vista però rispetto a una trasmissione della cultura e a una trasmissione di contenuti siamo arrivati veramente a una saturazione dovuta al periodo forse anche che ci può anche far riflettere su quello che già succedeva prima e c'è bisogno proprio di altro c'è bisogno invece di momenti di condivisione di riflessione di persona che poi mi sono accorto come invece sia bello e utile a volte fare delle riunioni usando Skype o Zoom o altri canali perché insomma non si inquina non si usa la macchina si risponde un sacco di tempo a volte si riesce anche arrivare prima al sodo su mille altre cose però mi sono proprio reso conto di quanto sia necessario rimanere vedersi toccarsi infatti posso dire una cosa Dario velocemente hai ragione tu perché effettivamente la tua forma la tua mentalità come quella di chi fa teatro ha sempre in mente un pubblico di prossimità io invece sono 42 anni che faccio cose senza avere un pubblico davanti per cui per me è anche più semplice capisci sostanziale scusa è una differenza sostanziale Lorenzo il vostro è un pubblico non di prossimità poi ci sono diversi aspetti il primo è allora io parlo per me è vero che io in questo momento rappresento il teatro però parlo per me io nel teatro in streaming non credo credo che sia credo che sia un'alterazione sotto tutti i profili qualche tempo fa guardavo un'opera in streaming da un teatro super blasonato quindi una ripresa meravigliosa un'opera che amo dopo un quarto d'ora non ne potevo più perché per quanto tu possa avere una presa di suono di grande qualità il suono di un'orchestra e di un cantante non è assolutamente paragonabile a quello che tu senti mentre sei seduto in una poltrona col suono addosso e con i cantanti addosso anzi eccedo è dannoso se uno non è mai stato all'opera e lo guarda in televisione all'opera non ci andrà mai più l'opera in streaming è fatta soltanto per chi conosce l'opera e vuole vedere e ha la curiosità di vedere un allestimento da Berlino o da New York come sto facendo io perché improvvisamente hai a disposizione il Metropolitan il Covent Garden i Berliner Philharmoniker che non hai dietro l'angolo e li vado a vedere poi secondo problema pratico un teatro come il Teatro Sociale di Como non ha un archivio digitale di qualità per trasmettere in streaming i propri spettacoli neanche quelli di produzione noi facciamo delle riprese di archivio casalingo ma non di qualità sonora e video da poterle trasmettere tre se io vado a teatro tu dimmi quante volte sei andata a teatro da solo pochissime volte hai bisogno di condividerlo non solo con gli artisti ma con le persone e questa è la sensazione importante il luogo delle domande se tu esci e la domanda te la fai da solo è diverso tu le domande hai necessità di condividerle con le persone che sono qui in quel momento in quella sala qui e ora ma hai ragione Fedora posso dirti questa cosa hai ragione anch'io non guardo ma nemmeno su Rai 5 vedo un'opera ogni tanto tento ma non ce la faccio è assolutamente impossibile non avere la prossimità il vedere il pubblico vedere il violinista però pensavo ci fosse Enrico Melozi qua però una cosettina tipo opera crime la potevate fare anche a distanza anche facendo sfruttando zoom per avere un pubblico che potesse interagire e allora e allora e allora non sai che cosa abbiamo fatto perché noi abbiamo fatto un progetto assieme agliolo fortissimo che si chiama Opera Domani Home dedicato ai bambini che è praticamente non una ripresa di uno spettacolo che va in streaming ma è uno spettacolo che noi abbiamo pensato ad hoc meglio non lo spettacolo il termine giusto è un format nuovo pensato ad hoc da Barbara Minghetti che è un vulcano e quindi è lei che con i bambini che la massacravano di lacrime di pianti che non potevano vedere Rigoletto che abbiamo fatto in modo da mettere sul palcoscenico gli artisti nei giorni prima del lockdown totale gli ultimi giorni di febbraio e questo spettacolo è fruibile gratuitamente sulla nostra piattaforma ma ha avuto un riconoscimento tale che è stato sposato da Opera Vision che è la piattaforma di Opera Europa e in 48 ore dal momento in cui è stata messa online ha fatto 6.000 visualizzazioni in tutto il mondo quindi è una cosa mia colpa mia colpa mi ha ragione no no ma ne ho anche scritto Opera Domani Home è una roba fortissima il bello è che ne ho anche scritto per cui lo sapevo anche eppure mi sono dato la zappa sui piedi da solo e vabbè vabbè mi hai dato la chance scusa Opera Domani Home va fortissimo e devo dirti è stato adesso abbiamo nei progetti con Ray 5 e con Sky Classica che c'è ma in realtà è un progetto che è stato la cui forza è stata notata da emittenti importanti cioè non sul nostro canale streaming però se ti dico Ray 5 Sky Classica Opera Vision è un prodotto di qualità lo dico con orgoglio con un po' di immodestia perché sono convinta che tutta la piattaforma di Opera Education sia il nostro fiore all'occhiello e del motivo per cui noi dobbiamo stare in piedi è il nostro prodotto migliore grazie Lorenzo e grazie Fedora ne approfittiamo per salutare Barbara perché quando si parla di teatro sociale si parla tanto anche di Barbara Minghiatti è doveroso e vorrei salutare anche adesso è andato via ma c'era collegato Alessio Picco che lui sta lavorando in un teatro dall'altra parte del mondo perché sta lavorando in Arabia quindi magari se si ricollega faremo qualche domanda anche a lui per chiedergli un po' come stanno vivendo in Arabia Saudita la questione e vorrei approfittare invece eccolo qua eccolo qua dov'è? Alessio Picco sta arrivando Alessio Picco diamogli il microfono così magari gli facciamo qualche domanda che arriva l'estero adesso dobbiamo pensare tutti al futuro io queste cose le archivio con la fase 1 che abbiamo fatto adesso vediamo di trovare qualcosa di bello per la fase 2 e poi per il futuro da fare insieme ecco intanto che Alia attiva il microfono andrai avanti Mitch sì sì allora Marco adesso vorrevo farti una domanda sì per me scusami permettimi di dire una cosa anch'io su quello che sullo scambio tra Fedora e Ezzo sono d'accordissimo ci vogliono dei prodotti nuovi fatti apposta dobbiamo ragionare su questo proprio in questi giorni ero a casa il piccolo teatro di Milano ha reso disponibile su Rai Play Leman Trilogy l'ultimo spettacolo di Luca Ronconi che avevo visto a teatro ormai più di dieci anni fa ho voluto rivederlo in televisione era davvero semplicemente una ripresa di una delle delle messe in scene probabilmente delle ultime si sentiva che mancava qualche cosa io me lo ricordo l'avevo visto lì è una semplicemente una ripresa con un audio non perfetto con una distanza che comunque c'è con qualcosa che non è nato per essere semplicemente ripreso e trasmesso si sente che manca qualcosa quindi dobbiamo fare uno sforzo in più di creatività di fantasia per creare dei prodotti che siano fruibili attraverso questo mezzo non semplicemente adattando quello che già abbiamo perché davvero se no è controproducente lo diceva Fedora prima nel frattempo si è collegato Alessio Picco che salutiamo tutti assieme ciao Ale non era in programma però mi prendo questa cosa vogliamo chiederti un po' come state vivendo lì la pandemia e come lo sta vivendo il teatro allora il teatro beh iniziamo a dire che io ho iniziato il primo di marzo e il 12 di marzo ho chiuso il teatro quindi ho avuto modo di cercare fare boh ho timbrato il cartellino tipo ricorda dove sei magari per chi non lo sa adesso ho iniziato al Dubai Opera avevo in Arabia Solita fino a febbraio mi sono appena spostato qui e il teatro ha chiuso appunto a metà marzo c'è stato molto in forse perché diciamo che fondamentalmente la maggior parte della stagione è fatta da affitti per cui ci sono tantissime compagnie che affittano il teatro e poi aprono le porte al pubblico per cui diciamo che la stagione era ancora in corso e quelli che hanno iniziato per primi a cancellare erano proprio quelli che avevano preso in appetto il teatro quindi poi doveva arrivare traviata mi pare parte della stagione anche quella sta cancellata e quindi hanno deciso di fermare tutto ora si parla di agosto ci sono in forse un paio di eventi in giugno che accadranno e si parla di agosto con tanti forze perché qua se non c'è turismo non aprono nel senso che il pubblico è fatto per l'ostante a perfetto dei turisti quindi non ha senso per loro aprire siamo riusciti anche ad avere l'esperienza dall'altra parte del mondo bellissimo magari poi faremo un side con i comaschi che sono in giro per il pianeta bella idea bravo Mitch questa è una bella idea no Marco volevo volevo approfittarne per farti penso una delle ultime domande perché manca un quarto d'ora volevo anche chiederti quali potrebbero essere un po' hai già risposto prima ma magari proviamo a ragionare un po' più nel dettaglio quale potrebbe essere l'evoluzione del cinema posta emergenza quali saranno i temi ricorrenti nei film perché sicuramente questo avvenimento porterà a dei temi a dei trend molto molto differenti o comunque diversi da quelli che vedevamo prima e in particolare si credi che inizieranno sempre più film ad alberatura permettendo una maggior scelta dello spettatore un po' sull'onda di Black Mirror in Netflix Bunger Smash esatto allora guarda cosa succederà del cinema nella fase 2 o nella fase 3 diciamo nella fase 2 ancora non succede niente perché saranno chiusi ancora per tutta la fase 2 3 la 4 esatto guarda è difficile è difficile capirlo qualcuno si è già mosso come dicevamo prima qui a Como riconvertendosi non è detto che sia che quando riaprirà sarà diciamo quelli che sopravviveranno quelli che avranno vita più facile saranno quelli delle grandi catene non è detto perché le piccole sale di prossimità quelle che hanno che che hanno un tipo di attività che non si fonda su grandi numeri ma su sull'affezione del proprio pubblico sulla creazione di piccoli eventi di una programmazione molto differenziata molto ripetuta nel tempo ecco potrebbe essere io penso per esempio vicino a noi c'è Milano c'è una realtà bellissima come come quella del Cinemino una piccola sala di Porta Romana di 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 70 80 posti che ha una programmazione diversissima dalla sera alla mattina con cose per i bambini aperitivi con film che cambiano tutti i giorni con ospiti importanti che sono venuti a dare sostegno a questa piccolissima realtà non è detto che che appunto non si 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 ricominciare da lì anche perché poi i nostri spostamenti saranno sempre più lenti sempre più faticosi sempre più difficili avremo e quindi non è detto che non possa nascere da lì ci vuole lo diceva prima Enzo ci vuole però sinergia cioè soprattutto in una città come Como dove ci sono tante gelosie soprattutto nel mondo culturale tra le piccole associazioni e le piccole realtà ecco dobbiamo essere in grado in questo momento di mettere da parte tutto e e di mettere assieme le intelligenze e la creatività dobbiamo essere capaci di darci una mano di venirci incontro quando ci serve una cosa cioè dobbiamo davvero essere in grado di superare insomma gelosie veramente un po' vecchie un po' super che non che non ci aiutano non ci hanno mai aiutato ma incertamente in questa fase non ce le possiamo più permettere sentivo Tazza alla fine dell'ultimo intervento che sulla stagione estiva no? sull'Ecomo Film Festival come farlo l'ipotesi del drive-in che ovviamente è un'ipotesi che sembra facile ma onestamente nasconde tante tante insidie e non si improvvisa dalla sera alla mattina però però forse sì però forse pensare che si possa fare il cinema come l'abbiamo fatto io sono stato uno dei fondatori dell'Ecomo Film Festival ho lavorato assieme agli altri per sei anni abbiamo portato uno schermo dappertutto dall'Alto Lago all'Abrianza abbiamo fatto proiezioni all'aperto veramente in posti impensabili perché davvero il cinema è semplice no? ha bisogno solamente di uno schermo bianco di una parete bianca magari e di un proiettore e le sedie le possiamo mettere larghe possiamo pensare a un distanziamento vero dobbiamo solo avere la forza la fantasia la generosità ecco anche qualche anche qualche aiuto importante perché naturalmente ci sono costi che non non possiamo non possiamo dimenticare non basta solo la buona volontà però sì dobbiamo anche essere creativi da quel punto di vista grazie Marco fin da subito assolutamente il cinemino è un chiaro esempio io lo conosco di realtà che propone qualcosa di veramente innovativo ma anche come il cinema a Beltrade a Milano sono molti esempi quindi basta solo veramente guardare al di là del proprio naso tra l'altro è curioso che proprio queste piccole realtà milanesi il Beltrade il cinemino il Mexico famosissimo sono proprio quei cinema che Netflix ha scelto per proiettare lì i suoi film è curiosa questa questa alleanza tra il massimo della tecnologia dello streaming e poi dopo invece la piccola monosala di quartiere storica ma perché è un'organza curiosa io spero che continui ma il marketing spesso anticipa le tendenze e il marketing si è accorto che alla fine le cose lo fanno le persone quindi deve stare tra le persone per vendere anche qualcosa di digitale e dovremmo guardare questi esempi sul fatto che bisogna stare tra le persone anche se sei ragione digitale su questo hai ragione perfettamente Michele ultima cosa che tocca a me no tocca a me vai vai Lorenzo facciamo un giro di tavolo come vi immaginate quest'estate allora velocissimo io per ultima fatto io anche perché voglio dire noi non siamo contrariamente per fortuna non abbiamo bisogno sempre di un pubblico presente non abbiamo bisogno di distanziamento sociale per cui per noi non sarà diversa dalle altre stati per carità cercheremo di essere sempre ancora più disponibili come dicevo prima noi siamo aperti a tutti per cui daremo volentieri una mano a chi deve comunicare che è la cosa che facciamo quotidianamente comunicare eventi comunicare difficoltà comunicare campagne per esempio quella che è partita adesso del Teatro San Teodoro abbiamo comunicato e torneremo a ribadire anche quella del dona il biglietto insomma noi facciamo la nostra parte di comunicatori poi in quanto produttori di eventi se Massi rimane signorino come dicevamo prima e avrà ancora voglia con tutta questa bella equipe di persone noi ci saremo faremo se possibile la nostra festa annuale ma per il resto noi non siamo dei produttori di eventi veri invece voi lo siete e vi daremo una mano sempre spassionatamente perché è giusto che sia così il nostro ruolo della radio è proprio quello poi come sarà quest'estate tu dici per quanto riguarda quello che siamo abituati cinema il teatro gli eventi il festival come città della musica sarà un'estate triste da quel punto di vista lì è inevitabile tocca a me guardate io la sto già piangendo perché la settimana prossima avrei dovuto essere a Cannes come mi succede ormai da 12 anni il festival non ci sarà a settembre si annuncia una Venezia ancora incerta ma certamente molto diversa da quella che ho conosciuto negli ultimi 20 anni sarà un'estate non lo so speriamo che qualcuno abbia qualche idea speriamo che qualcuno si inventi qualcosa speriamo che la scienza ci dia una mano speriamo dobbiamo essere fiduciosi da questo punto di vista altro non mi sentirei di dire in questo momento Dario Fedora volete dire anche voi come immaginate la nostra estate allora io sono d'accordo con quello che dice Marco noi abbiamo sicuramente la voglia di ripartire due mesi di fermo sembrano due anni quindi figurarsi di pensare di riaprire a gennaio però quello che noi pensiamo ha poco valore rispetto a quello che ci dicono rispetto a quello che si potrà fare io credo che il nostro mestiere è organizzare eventi per cui dal momento in cui ci daranno delle disposizioni chiare su quello che si potrà fare il nostro compito sarà nel breve nel più breve tempo possibile organizzare degli eventi poi tutto deve essere svolto nella massima sicurezza perché il pubblico che io sento quotidianamente per telefono continua a ripetermi noi vogliamo venire in teatro però ci dobbiamo sentire sicuri quindi il nostro compito è lasciare che le persone abbiano uno spazio per sbagarsi per ritrovarsi ma questo non può non può convivere con la paura quindi il senso è che quello che faremo deve essere fatto senza che questo seme di paura dell'altro ci accompagni quindi un po' le idee ma un po' noi dobbiamo sperare nella scienza poi siamo positivi appena sarà possibile noi metteremo in campo tutte le nostre risorse tutta la nostra creatività per ripartire ma io invece sono d'accordo con gli interventi la cosa che mi immagino che auspico è la necessità di riattivare perché effettivamente c'è proprio un po' bisogno di rinascere quindi la necessità e la possibilità di fare anche dei piccoli noi ne stiamo immaginando e pensando tanti micro eventi ma affinché le persone possano ritornare nei luoghi della cultura nei luoghi della città nel verde insomma possano riappropriarsi possano ritornare in contatto seppure in qualche modo distanziati ma ritengo riteniamo che sia indispensabile ridare almeno una scintilla perché penso che siamo tutti consapevoli del fatto che non sarà possibile fare le cose come le abbiamo sempre fatte che quindi non passi un'estate vuota quindi le persone hanno bisogno di riappropriarsi di spazi di cultura di spazi della città sono d'accordo sul ragionamento che si faceva prima rispetto anche la possibilità di un po' di localizzare insomma di andare a costruire più spazi nei quartieri più situazioni anche è vero una parete un videoproiettore si può proiettare un film e quindi sicuramente bisognerà reinventarsi anche le città tra l'altro Como è anche uno spazio che si presterebbe molto per fare tanti luoghi tanti microeventi certo è vero che finché non c'è un minimo di disposizione sono solo pensieri e insomma speranze assolutamente siamo sempre legati alla politica quindi se anche loro non si danno un po' una mossa tra virgolette se non una svegliata per usare un termine un po' più forte magari la possibilità di sperimentare di proporre sperimentare perché ripeto io mi immagino veramente dei microeventi dove prima si parlava di duemila tremila persone cioè prima dove l'anno scorso si pensava magari quest'anno si può pensare a boh 30, 40, 50 60 persone tanti eventi iniziative per 50, 60 persone però questi sono necessari per riattivare e riuscire e acquistare fiducia anche rispetto al tema della malattia dello stare in casa e basta insomma posso dire una cosa sugli artisti in realtà che è una cosa che sento molto soprattutto nel nostro mondo probabilmente i grandi artisti del nostro mondo in questo momento non ci stanno ascoltando però c'è un mondo dietro lo spettacolo dal vivo ci sono i piccoli artisti e i grandi artisti io devo dire che in questi mesi ho sentito una solidarietà dai piccoli artisti da quelli che veramente fanno fatica perché avevano pochi contratti che sono stati tutti cancellati loro sono tutti quanti disponibili a fare qualunque cosa senza percepire compensi per aprire i teatri poche richieste sono arrivate invece dai grandi artisti quindi è il momento in cui i grandi che hanno tanto ricevuto adesso restituiscano e facciano qualcosa per i piccoli perché bisogna sostenere i giovani quelli che in questo momento che saranno gli artisti di domani però vanno sostenuti oggi da quelli che artisti lo sono già su tutti i palcoscenici del mondo occhio che ti danno della comunista appunto esatto io stavo arrivando proprio lì comunque anch'io confermo questa disponibilità di artisti del territorio e non anche rispetto a una plausibile programmazione dell'anno prossimo che comunque noi in qualche modo abbiamo chiuso al buio ma gli artisti ci stanno e hanno voglia di rischiare hanno voglia di cambiare sono disponibili quindi è vero i piccoli 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 Comunque il comune anno scorso ha proposto take the seat quest'anno possiamo proporre take the matter Adesso siamo per arrivare alla stanza che invece si è più adattata a questa situazione perché abbiamo visto come le realtà teatrali culturali come il cinema il teatro hanno dovuto far fatica in questa emergenza vedremo tra pochissimo come invece le start up sono reattive veloci e riescono a rispondere a questa esigenza ce n'è una che presenterà tra poco che si chiama prometto di tornare e spero che sarà un po' anche la vostra promessa nelle nostre vite perché abbiamo proprio bisogno che torni il teatro torni il cinema nelle nostre vite chiederei soltanto in un minuto a Fedora se può rispondere alla domanda di Taz che diceva come avete programmato assolutamente sì abbiamo buttato via tutto il festival che dovevamo presentare il 6 di aprile oggi sarebbe finita la stagione il 2 maggio sarebbe finita la stagione del 2020 il 15 giugno avremmo presentato la nuova stagione ne abbiamo già fatte tre versioni questo influenzerà assolutamente sì in questo momento non sappiamo che cosa succederà a gennaio credo difficile che il 31 dicembre tutto chiuso il primo gennaio tutto aperto come prima è evidente che la programmazione subirà un'influenza importante dalle prescrizioni che verranno date perché ci sono delle cose che non sono fattibili non solo per il pubblico ma anche per gli artisti la lirica non si possono tenere 60 persone in una buca che si sputacchiano una addosso all'altro un coro di 60 persone che si sputacchiano una addosso all'altro e quindi sicuramente saranno influenzate poi non so se ci saranno soltanto saranno una grande stagione di monologhi e concerti spero di no e concerti in solisti spero di no però è evidente che qualcosa succederà e dovremmo studiare anche dei progetti nuovi fatti ad hoc che non penso che siano i balletti a distanza con i ballerini a distanza di un metro perché mi viene una tristezza tipo di evitare il primo maggio mi volevo sparare con questi che suonavano a distanza però qualcosa dovremmo immaginarci di specifico grazie mille un minuto dammi un minuto un minuto un minuto no neanche 30 secondi allora la quarta e ultima produzione che abbiamo ancora in cantiere per questo periodo di quarantena è un musical che si intitola Liberi Tutti un digital musical se volete collaborare chiamatemi perché facciamo un musical completamente digitale intitolato Liberi Tutti ok? bellissimo ma dobbiamo cantare Lorenzo no 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 io so come ho in mente di realizzarlo però ci servono ballerini cantanti improvvisati a distanza un po' col metodo tiktok però vabbè chiamatemi che vi spiego se ti serve un albero posso farlo un minuto lì altro non posso però la Mary potrebbe esserci molto utile ecco sì di presto lei mi sembra meglio gli posso farla a Luna? ringraziamo questa stanza bellissima del teatro la cultura la musica il cinema con Marco Albanese Fedora Sorrentino Lorenzo Canali e Dario Galletti e diamo il benvenuto a tre start up che come vi dicevo sono state super agili e sono nate alcune durante l'emergenza proprio per dare il contributo dei giovani alla nostra realtà quella del paese quindi inizio a presentarli sono Sergio Malagoli che visto che è vicino a Massi sta imparando a avere il dono dell'ubiquità quindi fa 200.000 cose e riusciamo anche ad averlo come co-founder di Orwell e socio di questa start up che si chiama Da Vinci Salute di cui ci racconterà qualcosa di più abbiamo con noi Domenico Genovese Raffaele Negro che hanno inventato una start up che si chiama proprio Prometto di Tornare e potete andare a vedere il sito promettoditornare.it ce ne parleranno loro naturalmente ma potrebbe essere interessante anche per le realtà culturali che in questo momento sono ferme a Como e poi Fila Indiana che ha una buona esperienza di start up infatti abbiamo Fulvio Bambusi che ci racconterà come da una start up ne hanno creata un'altra e io inizierei proprio magari da te Fulvio che se vuoi raccontarci un po' chi sei come siete nati come start up e come mai io ho detto che ne avete due allora con me in realtà ci sono anche due co-fondatori di Wiser che è la prima start up e in questo senso quindi lascerei la parola a Carlo Alberto per raccontare che cos'è Wiser come è nata e poi da dove arriva Fila Indiana ci sei Carlo? Scusami Carlo aspetta che non ti ho smutato te ti